Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Si è aperto in tribunale a Mantua il processo che vede due poliziotti in servizio alla questura di Vicenza accusati di lesione e violenza privata. I due nel novembre 2012 avrebbero duramente picchiato un camionista lungo la 22 tra Mantua Sud e Pegognaga dopo che con il suo mezzo aveva sorpassato ostacolandola la macchina della polizia con il lampeggiante blu acceso. A bordo c'erano i due agenti che stavano accompagnando un collaboratore di giustizia a testimoniare. Oggi la vittima del pestaggio Riccardo Velponer, 33 anni di Verona, si è costituito parte civile. Antonino Condorelli, procuratore capo di Mantua, PM nel processo ha citato il Ministero dell'Interno come soggetto che dovrà risarcire la parte civile nel caso i due poliziotti venissero condannati. La prossima udienza si terrà il 13 giugno 2014. E adesso una vicenda davvero incredibile che arriva dal Padovano. Passeggini sull'androne di casa che disturbavano i vicini. Così hanno ben pensato di bruciarli. È accaduto in un condominio di Ponte Vigo d'Arzere. I due passeggini di una famiglia nigeriana sono stati bruciati usando probabilmente della benzina. All'interno del caseggiato sono arrivati sia i vigili del fuoco che la polizia ad appiccare l'incendio. Quasi certamente altri vicini di casa, anche loro di nazionalità straniera. Adesso parliamo di un blitz dei carabinieri in una casa veneziana. Ha scoperto un arsenale, due le persone arrestate, tra cui anche un uomo vicino alla mala del Brenta. Sentiamo i particolari. Sapevano cosa avrebbero trovato i carabinieri di Vicenza quando stamane hanno fatto irruzione nell'appartamento di un uomo di Scorzè. Un arsenale di armi, tramitra, fucili, anche a pompa, pistole ed esplosivo era stipato ordinatamente nella casa della provincia veneziana. L'indagine, conclusosi con l'arresto di due persone, è iniziata lo scorso settembre dopo che un'auto di grossa cilindrata era stata segnalata alle forze dell'ordine perché vista girarsi più volte nei pressi di gioiellerie e ville. Insomma, un'auto che poteva avere a che fare con alcuni colpi messi a segno nel territorio di Bassano del Grappa. E così, messa sotto stretta sorveglianza, anche grazie alle registrazioni dei passaggi ai casali autostradali e ai tutor, i carabinieri hanno scoperto che si trattava di un veicolo rubato all'aeroporto di Venezia e il cui legittimo proprietario non aveva ancora potuto sporgere denuncia perché è in viaggio di nozze all'estero. L'arma ha così intercettato l'auto, seguendela fino alla casa in cui, insospettabile, che la nascondeva nel suo garage. Raccolto in una serie di elementi, i carabinieri hanno deciso di fare un blitz nella casa, trovandosi di fronte all'arsenale di armi. Oltre al proprietario di casa è finito in manetta anche un secondo uomo, già noto alle forze dell'ordine per la sua avvicinanza alla Mala del Brenta. Massima allerta questa mattina a lungo via delle industrie a San Giacomo di Vittorio Veneto, dove un violento incendio ha divorato parte di un'azienda avicola. L'emergenza è scattata di prima mattina con la chiamata al 115. Diversi i mezzi inviati sul posto e grande la prensione degli altri imprenditori della zona. Le fiamme e il fumo infatti erano tali da lasciar presupporre che l'incendio potesse espandersi anche alle aziende vicine. L'intervento dei pompieri è valso però a mettere sotto controllo il rogo circostante solo nell'azienda. Ancora sul posto i vigili del fuoco che dovranno chiarire la causa dell'incendio. E adesso ci spostiamo a Verona per parlare di un incredibile incidente stradale, dove un cittadino dello Sri Lanka che guidava un furgone con un tasso alcolemico quattro volte superiore ai limiti di legge ha urtato due auto e poi è fuggito. Nel frattempo un suo connazionale che era a bordo nel furgone ha sferrato un pugno al conducente di una delle due auto danneggiate. La pattuglia della municipale arrivata sul posto è riuscita ad individuare il responsabile dell'incidente ed è stato accompagnato al comando. Dai controlli è emerso che l'uomo oltre ad essere ubriaco era senza patente e in più alla guida di un veicolo non assicurato. Per questo motivo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di guida senza patente e in stato di ebrezza. Dovrà rispondere anche della mancata copertura assicurativa e di essersi allontanato dal luogo dell'incidente senza fornire i propri dati alla controparte. Il suo amico, 45 anni, è stato denunciato a piede libero per l'aggressione ad una delle vittime dell'incidente. E adesso parliamo di femminicidio perché è allarme in Veneto dove il numero dei casi è più alto della media nazionale. A parlarne la CGL e il servizio. La CGL del Veneto analizza i dati Istat e lancia l'allarme femminicidio nella nostra regione. I dati non sono freschi, risalgono al rilevamento del 2006 e quindi sono precedenti anche all'ondata critica di casi che ha investito recentemente la nazione, ma già appaiono in tutta la loro gravità. In Veneto il 34,3% di donne ha subito almeno una violenza nella propria vita contro il 32% della media italiana. Purtroppo il sondaggio dell'Issat non risulta aggiornato, ma il lavoro operato da alcuni punti di osservazione regionali dice che il Veneto continua ad essere tutt'altro che immune da questa piaga. In tre anni, dal 2009 al 2011, si contano in regione 92 vittime tra omicidi, 39, e tentati omicidi, 53, nell'ambito familiare con una nettissima prevalenza di donne. Un fenomeno preoccupante la cui drammaticità non diminuisce negli anni. Ad essere più colpite sono le donne tra i 31 e i 40 anni e nel 55% dei casi l'autore del delitto è il partner. Spesso a precedere il femminicidio c'è una storia di violenza e vestazioni di carattere fisico-psicologico perpetrate per molto tempo, spesso note anche a parenti ed amici e in diversi casi il 44% denunciate dall'autorità giudiziaria. La CGL Veneta dedicherà al problema un incontro con esperti, operatori e politici organizzato a Treviso per il 25 novembre prossimo, giornate internazionali contro la violenza sulle donne. Spettacolare colpo ieri sera a Casale, sul Sile, nella casa di un tabaccaio. I ladri avevano pianificato tutto, sono entrati approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno ed hanno puntato direttamente alla cassaforte prelevandola con tutto il contante. L'hanno estratta direttamente dal muro. Ad accorgersi di quanto è accaduto, lo stesso proprietario di casa una volta rientrato. Immediata la chiamata ai carabinieri che ora stanno indagando. Brava con i bambini ma anche nel far sparire gli oggetti, soprattutto quelli preziosi. Colpo grosso di una babysitter di Udine che lavorava per una famiglia di Campo Formido. La donna, che ha 47 anni e già un precedente per furto, giorno dopo giorno ha prelevato l'argenteria che si trovava nel salotto di casa assieme ad altri oggetti in oro. Nell'arco di sei mesi dalla casa sono spariti oggetti per un valore complessivo di 100.000 euro. La donna è stata denunciata dai carabinieri che sono riusciti a recuperare solo una parte della refurtiva. Una rete truffaldina per far superare gli esami di guida ai candidati era stata creata da alcune autoscuole del veneziano. A portarla alla luce la polizia stradale. Sentite cosa si erano inventati. Un sistema semplice quanto ingegnoso. Era quello che si era inventato il titolare 57enne di una scuola guida di Oriago nel veneziano. Un metodo dal sicuro successo, tanto da diventare un modello diffuso e utilizzato anche da altre autoscuole del territorio. Il tutto per far passare l'esame teorico ai più somali. Quando infatti la data dell'esame teorico si avvicinava e il titolare dell'autoscuola si accorgeva che il candidato mai e poi mai avrebbe passato l'esame, decideva di sostituirlo. Alle prove si presentava così un'altra persona, un 25enne grande esperto dei quiz ministeriali che nemmeno a dirlo superava brillantemente la prova. Per far funzionare il tutto i documenti dei candidati venivano alterati sostituendo le foto dei reali titolari con quelle del finto candidato. Nei guai sono finiti anche i clienti delle autoscuole che lasciavano i propri documenti in mano al 57enne. La successiva parte dell'esame, quella pratica, veniva invece svolta dal vero candidato il quale il più delle volte era un esperto automobilista. Il trucco infatti veniva riservato a coloro i quali si rivolgevano all'autoscuola per recuperare una patente revocata o i punti persi. A mettere la polizia stradale sulle tracce del 57enne la segnalazione del direttore della motorizzazione civile di Venezia accortosi che qualcosa non funzionava. L'indagine, per andare a fondo della quale sono serviti quasi tre anni di accertamenti, ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio di 12 persone accusate a vario titolo di falso in atto pubblico e sostituzione di persona. Ora le indagini sono tutt'altro che finite, visto che durante i vari accertamenti sono emerse altre truffe negli esami teorici con l'utilizzo di ricetrasmittenti miniaturizzati che permettono al candidato di comunicare con un esperto posizionato all'esterno della sala esami. La Digos della Questura di Venezia ha individuato e denunciato all'autorità giudiziaria due giovani tifosi per la deflagrazione di alcuni grossi petardi durante la partita di calcio Venezia-Reggiana disputata allo stadio Penzo lo scorso 3 novembre. Le esplosioni delle bombe carta avevano creato paura, ha indotto diversi genitori ad allontanarsi dallo stadio con i loro bambini. La società era stata sanzionata dal giudice sportivo con un'ammenda di 1.500 euro per le intemperanze dei tifosi. I giovani denunciati, un 19enne e un 20enne, sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato nell'impianto. A fine partita erano stati identificati dalla Digos. Oltre alla conseguenza penale per il loro comportamento, saranno sanzionati dal questore con provvedimento amministrativo di divieto, di accesso alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO. Il professor David Cariolaro, della cui vicenda c'eravamo occupati qualche settimana fa, potrebbe presto far ritorno a Padova grazie ad un'equipe dell'ospedale civile della Città del Santo. Sentiamo gli aggiornamenti sulla situazione. Potrebbe presto far rientro nella sua città natale il professor David Cariolaro. Le speranze per il docente universitario sono legate all'intervento di un'equipe di medici dell'ospedale civile di Padova, pronta a volare in Cina per raggiungere il docente universitario. Stamane il governatore del Veneto, Luca Zai, ha firmato tutte le carte necessarie per permettere burocraticamente all'equipe di raggiungere l'ospedale ad un centinaio di chilometri da Shanghai, dove da circa due mesi il quarantenne si trova ricoverato a seguito di un brutto incidente che lo ha fatto cadere in uno stato di coma. Le cure necessarie al docente di origini padovane da qualche anno trasferitosi per lavoro in Oriente sono estremamente complesse, tanto da non poter essere effettuate nell'ospedale in cui si trova ricoverato. Per questo, ad inizio novembre, era partita la raccolta fondi per organizzare il viaggio di rientro di Cariolaro, che a causa delle gravi condizioni non può viaggiare su un volo di linea. Ma l'aggravarsi della situazione aveva rimandato le operazioni di rientro. Ora, una lieve ripresa del docente gli consentirebbe di viaggiare, ma solo con un'equipo di medici al fianco, appunto quella del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Padovano. Solo dopo il trasferimento si potrà procedere con il delicatissimo intervento chirurgico al cervello e il trattamento terapeutico successivo. Il viaggio, che durerà 19 ore, potrebbe partire già fra qualche giorno. Da Treviso, blitz di polizia e carabinieri, questa mattina alle 6.30, nell'ex caserma Sala, occupata dallo scorso 9 novembre dagli attivisti del collettivo ZTL. Gli occupanti non hanno posto resistenza e lo sgombero si è svolto senza particolari problemi. Il collettivo, tuttavia, non ha rinunciato a manifestare la propria contrarietà, rivolgendo un appello a tutta la cittadinanza per difendere lo spazio. occupato. I carabinieri di Poggi Bonsi, siamo in provincia di Siena, hanno eseguito questa mattina una trentina di arresti nel corso di un'operazione antidroga che si è sviluppata tra Toscana, Emilia Romagna, Campania e Veneto. In quest'ultima regione sono state eseguite perquisizioni a Treviso. 31 ordinanze sono state emesse dal GIP di Firenze su richiesta del DDA per tutto il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine è cominciata oltre due anni fa, ha consentito di sgominare un gruppo di trafficanti di cocaina che si approvvigionava in Spagna per rifornire il mercato italiano. Tra loro italiani, domenicani e nigeriani. Al momento sono stati sequestrati tre chili di cocaina per un valore di circa 300 mila euro. Guai seri per la preside di un istituto superiore di mestre. La donna è accusata di peculato e ha perso il posto di lavoro. Sentiamo perché. Utilizzava l'auto dell'istituto scolastico per cui lavorava per scopi che non avevano a che fare con il lavoro. Sono queste le accuse per cui una dirigente scolastica di un istituto superiore di mestre è stata riconosciuta colpevole e condannata a due anni e otto mesi. La donna, secondo quanto ricostrutto dalla procura veneziana, si sarebbe macchiata di peculato dal 2007 al 2009, periodo in cui diresse l'istituto della terraferma. La scuola infatti aveva a disposizione un'auto con la quale trasportare materiali e potersi muovere da una succursale ad un'altra, ma secondo l'accusa la preside ne avrebbe fatto anche un utilizzo privato, per esempio come mezzo di trasporto personale. A dare avvio alla vicenda una segnalazione anonima. Gli accertamenti hanno portato anche ad utilizzare un GPS e apparecchiatura elettronica in grado di tracciare tutti gli spostamenti della macchina. E le prove avrebbero convinto la procura della veridicità della soffiata, tanto che la donna, oltre ad essere stata condannata, ha perso il posto di lavoro, affidato ora ad un nuovo professore. L'ex preside si è giustificata raccontando che gli orari di lavoro pesanti la costringevano a fare rientro a casa con il mezzo e ora è pronta a fare appello. Avviato oggi a Padova il percorso che porterà alla nascita di Bus Italia-Veneto. La nuova società di trasporto pubblico prevede APS Holding con una NUCO con Bus Italia che gestisce il trasporto extraurbano nelle province di Padova e Rovigo. Sono soddisfatto dell'accordo raggiunto in sede di trattativa, ha detto il sindaco Ivorossi, in quanto si salvaguardano posti di lavoro e livelli salariali. Inoltre la NUCO con Bus Italia verrà dotata di 100 nuovi mezzi di cui 22 già in fase di consegna a primavera. Entro tre anni saranno circa 39 i nuovi assunti. Una sessantina di persone ha partecipato all'aeroporto Cattullo di Verona ad un'esercitazione con la simulazione di un grave incidente ad un aereo in movimento sul piazzale. L'operazione era mirata a verificare l'efficacia del piano di emergenza aeroportuale e testare la tempestività di intervento e la capacità di coordinamento dei servizi dei soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso. La torre di controllo ha attivato tutto il piano di emergenza. Sono stati richiamati in aeroporto anche circa una ventina di volontari come figuranti per rendere verosimile l'esercitazione. Andare in vacanza senza un euro è possibile oggi grazie al baratto. Dal 18 al 24 novembre 800 bed and breakfast italiani scambiano soggiorni in cambio di servizi, oggetti e molto altro. Ancora scopriamone di più. Un talento, un servizio oppure un oggetto in questa settimana valgono più di un euro e fanno guadagnare un soggiorno in una struttura ricettiva d'Italia. Non è una favola, bensì il baratto a cui viene dedicata un'intera settimana, quella che va dal 18 al 24 novembre. Ad aderire sono bene 800 bed and breakfast del nostro paese. Le strutture che aderiscono all'iniziativa e si possono trovare sul sito www.bedandbreakfast.it baratteranno il soggiorno in cambio di beni o servizi. Per una settimana insomma, l'ospite e il gestore saranno svincolati dal pagamento in denaro e privilegeranno l'aspetto umano dell'ospitalità. Avete per esempio figli grandi e giochi in scatola con tutte le pedine di cui disfarvi? Potrebbero valere qualche giorno ad Aosta o a Pescara, dove i titolari di un bed and breakfast li stanno cercando. Sapete potare gli alberi o tinteggiare un muro? Potrebbero aprirsi per voi le porte di strutture a Bari e Taranto, ma si cercano anche riprese video, corsi, traduzioni, dipinti, abbigliamento, prodotti tipici e molto, molto altro ancora. Nessun problema all'orizzonte perché gli scambi verranno concordati prima fra gestore e ospite. Con la settimana del baratto, sicurano gli organizzatori, si ha una vacanza diversa e ricca di contatti umani, scambi di esperienze e professionalità, tornando alle origini dell'ospitalità e della riconoscenza. L'iniziativa alla sua quarta edizione ha riscosso così tanto successo che in alcuni dei bed and breakfast il baratto è ben accetto, tanto da durare tutto l'anno. Il maltempo ha portato a Venezia il fenomeno dell'acqua alta con una massima che ha toccato i 124 cm sul medio mare intorno alle 11.30. Un livello da codice arancio, ovvero marea molto sostenuta, che ha determinato l'allagamento a Venezia del 37% della superficie in centro storico. Già in mattinata erano scattate le segnalazioni via SMS e le sirene che annunciavano il fenomeno. L'alta marea dovrebbe raggiungere domani i 120-125 cm sul medio mare alle 11.30. Tutta la parte storica della città è stata interessata dal fenomeno, in particolare Piazza San Marco, dove la marea ha toccato i 125 cm che hanno creato notevoli difficoltà ai percorsi con le passerelle. Ma vediamo a livello meteo che cosa ci aspetta per la giornata di domani. In pianura avremo un'alternanza di nuvolosità variabile e schiarito e con la probabilità di foschia e anche di qualche nebbia fino a metà mattinata dopo il tramonto e specie a sud dell'asse Verona-Vicenza-Padova-Venezia. In montagna invece avremo un cielo molto nuvoloso. È tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata domani. Grazie per aver guardato il video.